Gli Etruschi sono indubbiamente il popolo più misterioso ed affascinante tra quelli vissuti nel passato in Italia. Pensate che secondo lo studioso Mario Gattonicelli, incredibile ma vero, le pagine che si potrebbero scrivere sulla loro storia non sarebbero più di cinque o sei. Tutti sanno, ad esempio, per averlo appreso tra i banchi di scuola, della nostra scarsissima conoscenza della lingua etrusca e delle oscure origini di questa civiltà. Che dire poi della loro religione e della loro spiritualità collegata un po' come in tutte le antiche civiltà alla magia e al misticismo. Quindi la questione in sintesi è che l'enigma etrusco non è legato unicamente ai due classici problemi della lingua e della provenienza, come vorrebbe farci credere da sempre l'archeologia ufficiale, ma c'è ben altro. Stasera ci troviamo qui, nei pressi delle rovine dell'antica città di Monterano, perché anche Monterano è di origine etrusca. Una lingua completamente diversa, usi e costumi anch'essi totalmente estranei rispetto a quelli in uso presso le genti italiche presenti nella nostra penisola ci fanno pensare agli etruschi come a un vero e proprio corpo estraneo all'interno di questo territorio. Apparsi quasi dal nulla sulle coste centro-settentrionali del Tirreno prima dell'VIII secolo a.C., si stabilirono in quella zona corrispondente, grosso modo, all'attuale Toscana e all'Alto Lazio, chiamata successivamente dai Romani Etruria. Avete mai notato che rispetto ad altre civiltà, nei libri di storia o di storia dell'arte il capitolo dedicato agli etruschi è sempre molto breve? Forse allora la scienza ha evitato volutamente di approfondire un'analisi sui Rasna, questo il loro nome nella lingua originaria per celare dei segreti di enorme rilevanza? Sapete che fine hanno fatto tutte queste opere a molti di noi sconosciute? Sparite nel nulla, letteralmente scomparse. Strano, vero? Sapete che fine hanno fatto tutte queste opere a molti di noi sconosciute? Sparite nel 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.